Vedete che stiamo piantando il sangue al bonerino, questo è la porta innesto, e questo è l'innesto, e già ci sono due germogli che si stanno muovendo. Allora le mettiamo giù con la forchetta, abbiamo preparato il sangue molto bene. Giovanni adesso lo infila sulla forchetta e la manda giù a fianco al paletto che è stato messo precedentemente. I paletti sono tutti a 75 cm l'uno dall'altro e quindi su un ettaro ci vanno circa 6.660 piante. Prima di piantare bisogna tagliare le radici, le tagliamo ad una distanza di 2-3 cm perché sono troppo lunghe, se no infilandole con la forchetta praticamente diventa difficile, poi si ripiegano tutti in alto, tanto la pianta riesce comunque a partire bene. E vedi di qui c'è la Maria, la Florica, la Ioanna che stanno facendo questo lavoro e poi distribuiscono le piante lungo la fila per piantarle. Sì. 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 Sì.